Salve a tutti, in questo video vediamo come cambiare i programmi predefiniti per aprire determinati tipi di estensioni su Windows 10. Allora, qua ho un'immagine, un file di testo, e questo era un file .pro, un'immagine, un'associazione sconosciuta, quindi un'estensione immaginare che avevo creato per mostrare l'altro tipo di video su come aprire un file con estensione sconosciuta, ovvero installando il programma esterno oppure, se già era presente, riassociarlo. Allora, innanzitutto c'è da dire che ci sono due sistemi, possiamo agire sulla singola estensione o possiamo aprire la schermata di Windows 10 che ci consente di vedere quali sono i programmi principali associate a determinate estensioni, ed è anche il posto dove possiamo andare per cambiare il browser predefinito. Allora, vediamo le due opzioni, apriamo lo Start, apriamo Impostazioni, Sistema, App predefinite, e qua abbiamo le applicazioni predefinite. Allora, questo sistema non è preciso come quello che vi mostrerò dopo, perché? Perché, ad esempio, se io volessi cambiare il lettore musicale, vado qua, posso solo scegliere tra le prime da lui consigliate, oppure cercare un'app nello store, ma se io ce l'ho già installata o un'altra applicazione e voglio mettere quella, qui non si può scegliere. Infatti, ad esempio, il visualizzatore di foto, io ho Gimp installato, clicco qua, però Gimp non me lo fa vedere e non lo posso mettere da qua. Solamente posso mettere Movie Maker, Paint, raccolta foto, visualizzatore di Windows che è già associato, Paint.net, basta. O se no, scaricarla dallo store. Qua posso cambiare anche, tra l'altro, l'applicazione predefinita per le mail e per il browser web, però, anche se clicco qua, poi, scegli app predefinite per tipo di file, dove ci fa vedere nel dettaglio ogni singola estensione, c'è lo stesso problema di prima. Ad esempio, il, eccolo qui, 3GP, che è un file audio-video, vedete, mi dà mpc-hc, cioè media per il classico, ok? Però qua non mi dà tutto. E idem qua, cerca app nello store, quindi stesso identico problema, qua non mi permette di scegliere un'app che già è presente. Quindi, anche se scegliamo app predefinite o app predefinite per protocollo, abbiamo sempre lo stesso problema. Possiamo scegliere solo una delle app che lui ci consiglia. Vediamo allora il sistema normale, quello consigliato e preferito da me, che funziona anche sugli altri Windows precedenti, tra l'altro. Allora, voglio, ad esempio, che adesso tutti i file GPG mi si aprano con Gimp, visto che là, nella schermata principale, non era possibile farlo. In questo momento mi si apre solo col visualizzatore foto, ed è molto rapido. In questo caso vorrei che continuasse ad essere quello. Però, nel caso io volessi Gimp, faccio tasto destro, apri con, scegli un'altra app, perché se lo facciamo qui, anche se lo troviamo, verrà fatto solo per questa volta. Quindi scegli un'altra app. E adesso vado in altre opzioni. E vado a scorrere. In questo caso non c'è Gimp, come potete vedere non me l'ho dato tra quelle principali, allora vado in altre app. Quindi se non lo trovate qui, andate in altre app. Torniamo giù. Adesso lo ha trovato, come potete vedere. Se ancora non ci fosse, allora clicchiamo di nuovo su qua, che questa volta dice, cerca un'altra app in questo PC. In questo caso, mi si apre la schermata dei programmi. Quindi andrò in, nel caso di Gimp, vado qua in Gimp 2, e gli do l'exe, che adesso dovrebbe stare, eccolo qua, sotto bine. Quindi questo file qua. In questo caso non importa perché era presente già da prima, quindi riapro qua, scegli un'app, altre app, e vado in Gimp. Quindi faccio così. Attenzione, adesso, prima di confermare con ok, spunto, usa sempre quest'app per aprire i file jpg. Cosa vuol dire? Facciamo ok. Che adesso, non ci sarà più bisogno di rifare sempre questo procedimento, ma tutte le volte che farò doppio clic su qualsiasi file jpg, mi aprirà automaticamente Gimp, il programma che ho scelto. Adesso torniamo con il visualizzatore classico di Windows, quindi vediamo di nuovo come fare, ma selezionando il visualizzatore. Tasto destro, apri con, scegli un'altra app. Scorro, visualizzatore foto di Windows, usa sempre quest'app, ok. Ed ecco fatto, adesso utilizzerà sempre il visualizzatore di foto. Stessa procedura per qualsiasi altra estensione, quindi anche .txt, apri con, scegli altra app. Vedete che in questo caso Windows cerca sempre di capire che tipo di file jpg, in questo caso ha capito che un txt può essere aperto anche con i programmi LibreOffice, anche con WordPad ad esempio. Però di base le apre con il blocco note. Quindi vado qua, altra app, anche qui, uguale, cerco l'applicazione migliore per aprire il txt. Quindi spero di essere stato chiaro, questo è un procedimento molto semplice e molto veloce che ho sempre preferito. Io non vado mai dentro impostazioni a cercare tutte quelle cose per cambiare le estensioni. Se voglio, mi interessa cambiare un'estensione perché mi è venuto in mente, perché ho aperto un file e si è aperto con un programma errato, quindi ho già sotto mano l'estensione che voglio cambiare. Non c'è bisogno che vada là dentro a cercare il nome dell'estensione. Qua è già disponibile, quindi tasto destro, apri con e si fa prima. Un saluto a tutti.